non si prendono Samue Samue andiamo a Samue cosa che te lo invita? sei proprio venuta a fare che bello c'è quello lì che esplora vai in giro per noi è più audace di tutti continuano a separare se vado in giro un po' perciò contro anche un po' più grande fermiamo così fermiamo così guarda lì non mordono sempre qua la scuola non mi piace non mi piace non mi piace perché mi piace mi piace e mi piace non mi piace Sì, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla.